Diciamo che c'è una grande responsabilità da parte dei programmi, da parte dei film, da parte di tutto quello che è l'audiovisivo, perché comunque siamo bombardati continuamente di immagini, di suoni e di conseguenza noi assimiliamo a quello che ci viene detto. Oppure veniamo influenzati dalle immagini, comunque abbiamo una grande responsabilità noi che stiamo dall'altra parte, dobbiamo sempre pensare che al di là ci sono persone che magari sono da sole, persone che non hanno delle guide e quindi bisogna essere responsabili.